La situazione delle casse del Comune di Pescara è ancora difficile. La manovra economica applicata, innalzando al massimo le aliquote delle imposte, ha però alleggerito alcune voci ed oggi, annuncia il Sindaco Marco Alessandrini, si può dichiarare che non vi saranno manovre aggiuntive, dunque niente nuove tasse. Credo sia doveroso smentire qualunque ipotesi di innalzamento della pressione fiscale, non fosse altro perché i limiti di legge sono già stati garantiti, per cui il ricorso alla leva fiscale è da escludere completamente. Una situazione che di certo ha creato molte polemiche tra i cittadini, ma necessaria per evitare il tanto temuto commissariamento. Noi stimiamo che per la settimana prossima avremo il pieno riaccertamento dei residui, ossia un'indagine svolta dai nostri uffici finanziari, per verificare quali sono effettivamente le poste attive che vanta il Comune, cioè i suoi crediti e quali sono effettivamente le poste passive, cioè i suoi debiti. Insieme a questo verrà cristallizzata una situazione inerente ai debiti fuori bilancio, quelli che già esistono rivenienti magari da sentenze, e quelli potenziali che potrebbero peraltro venire fuori da situazioni giudiziarie controverse.